Gambizzato con tre proiettili di pistola a tamburo su ben sei colpi sparati contro di lui da sconosciuti mentre era davanti al portone del civico 6 di piazza Tiepolo nel rione Santeria di Brindisi insieme ad un amico. L'intima dell'anguato è venuto questa notte intorno alle 2 il 21enne Alessandro Romanelli, già noto alle forze dell'ordine. Sul posto, avvertiti dalla sala operativa della questura, dove è arrivata la segnalazione telefonica di colpi d'arma da fuoco, una battuglia delle volanti che inizialmente non ha trovato nessuno. Gli agenti poi, scesi dalla propria vettura, hanno notato il sangue per terra davanti al portone del civico 6 e rintracciato Romanelli, ancora sanguinante, nell'appartamento di un amico. Immediato il trasporto in ospedale con un'ambulanza del 118 chiamata dagli agenti. Al Perrino, il 21enne è arrivato fuori pericolo di vita e i medici hanno rilasciato una prognosi di pochi giorni. Fortunatamente i colpi lo hanno raggiunto solo di striscio e quindi, una volta effettuati tutti gli accertamenti, sarà dimesso oggi stesso. In piazza Tiepolo sono poi arrivati uomini della squadra mobile e della scientifica che hanno eseguito i rilievi del caso. Le forze dell'ordine visioneranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che non si esclude abbiano potuto riprendere tutta la scena, circostanza questa che aiuterebbe a risalire responsabili del gesto in breve tempo.